Abbiamo fatto un ritiro bellissimo, in un posto dove io sono stato già col Bitonto, quindi la sicurezza della tranquillità e del lavoro in maniera professionale c'è sempre stata. Ottime sensazioni sono quelle del centrocampista Pietro Camporeale al rientro dal ritiro del Martina Franca a Camerino, dieci giorni di lavoro con nove arrivi in rosa, ultimo dei quali Piperis e altri ritocchi da perfezionare. L'ex Barletta spiega nel corso di Calcio Market anche cosa l'ha portato lontano dalla città della disfida per riabbracciare una piazza salutata nello scorso inverno. Non ho avuto contatti con nessuno, quindi ho capito che non facevo più parte del progetto a Barletta, sinceramente. Secondo sono tornato a Martina perché per prima cosa dopo che è andato il mister Massimo Pizzulli ho subito accettato la sua chiamata. I test amichevoli hanno visto il Martina superare per 8-0 una rappresentativa locale e imporsi per 2-1 sul Tolentino, finalista nella scorsa edizione di Coppa Italia di Serie D. Sugli scudi Marino, Ancora e Fruci, protagonisti nel 4-3-3 di Massimo Pizzulli. Buone indicazioni sono arrivate anche dalla colonia straniera con il croato Blazevic, l'argentino Barrera e lo spagnolo Delgado. Io credo che in ogni squadra il gruppo ha una percentuale altissima per arrivare a determinati obiettivi. Nel prossimo campionato di eccellenza il Martina giocherà probabilmente nel gruppo B, che arriva primo nel proprio raggruppamento, gioca la finale con la vincente dell'altro girone. A maggior ragione per campo reale occorrerà essere sempre sul pezzo. Sarebbe stato più bello il girone unico, magari è sempre un girone unico importante rispetto a tutte le altre regioni, lo sappiamo che l'eccellenza pugliese rispetto al resto d'Italia è un livello abbastanza alto.